Il campionato di Serie D non riesce a trovare pace, nemmeno a fronte di un'avvenuta rimodulazione, la seconda nel giro di qualche mese. Partiamo da domenica prossima, quando sono stati già stabiliti due rinvii con ufficialità. Si tratta di Castelfidardo, Vasto Girardi ed Agnonese, Porto Sant'Elpidio. Raramente nel corso del torneo le tre molisane hanno giocato contestualmente. Proprio ieri però si è registrato già un rinvio di una delle partite stabilite dopo la nuova riprogrammazione voluta dalla LND. Mercoledì 21 infatti si sarebbe dovuta giocare Porto Sant'Elpidio-Olimpia-Agnonese, rinviata per i contagi diffusi nelle fila dell'Agnone. La nuova formula del calendario fatta due giorni fa dalla LND probabilmente avrebbe dovuto richiedere anche un intervento di modifica al protocollo, altrimenti si potrebbe nuovamente incorrere così come è avvenuto in nuovi casi di rinvio a cui per motivi ormai di tempo sarà difficile porre rimedio. Ad ogni modo non ci sono state modifiche al protocollo, le gare continuano a rimanere appese a delle contingenze. L'Olimpia-Agnonese sta uguagliando la stessa sorte che ha avuto il Pineto fino a qualche settimana fa, cioè una mole di partite da smaltire. Domenica si giocherà la 27esima e gli Altomolisani hanno giocato solo 20 gare. Stessa sorte per il Vasto Girardi che domenica farà registrare il terzo rinvio consecutivo che si aggiunge alla trasferta di Fiuggi che il nuovo calendario ha fissato al 5 maggio e alla partita contro il Pineto stabilita per il 12 maggio. Insomma anche Vasto Girardi non può di certo sorridere considerato il fardello di ben 5 partite indietro. In mezzo a questo caos calmo c'è anche per fortuna il calcio giocato. Domenica Selvapiana-Cudini contro Dadderio. Il Campobasso chiederà strada alla Vastese per scalare altri gradini verso l'obiettivo stagionale. Squadra concentrata ed in salute sotto il profilo fisico e mentale. Le buone notizie valgono per Brenci che sta lavorando con i compagni anche se a parte, ma anche per Tengorang che proprio ieri ha iniziato a correre intorno al perimetro di Selvapiana a distanza di poco più. Di due settimane dall'operazione al menisco, un segnale incoraggiante per il centrocampista rosso-blu. Nelle fila della Vastese in dubbio il portiere di Rienzo, già assente nell'infrasettimanale contro l'Efeccimatese, per problemi alla caviglia presumibile che Dadderio possa sciogliere i dubbi proprio nella giornata di domani. Cudini scommetterà probabilmente sul solito reparto offensivo che è tornato a garantire numeri di un certo spessore. Oltre alle 11 marcature di Cogliati ci sono da registrare le 8 di Esposito, tenendo fuori dal conteggio la prima rete di domenica scaturita da un suo tiro, ma poi terminata in gol per il tramite di un difensore avversario. Attenzioni su Selvapiana, ma anche sul ferrante di Piedimontematese, dove va in scena Efeccimatese notaresco. I casertani sono in una condizione strepitosa e guarda caso non perdono dalla partita di andata in Abruzzo, quando classifica alla mano avevano soltanto 7 punti. Da quel giorno in avanti sarebbe partita una risalita incredibile che è tuttora in corso e che racconta di 9 vittorie e 6 pareggi dell'Efeccimatese di Corrado Urbano. Il tecnico dei casertani per domenica non potrà disporre degli squalificati Cassese e Riccio. Il notaresco, per voce del suo tecnico Epifani, ha tutto da guadagnare da questo finale di stagione all'inseguimento di un sogno, quello di avvicinarsi il più possibile alla capolista Campobasso. Anche la società Teramana non ha voluto lasciare nulla di intentato. Prova ne siano i recenti innesti di buona voglia e da quadro a riempire delle zone lasciate vuote per alcune defezioni come quella di Bianciardi. Al ferrante sarà partita vera anche il Campobasso. Al termine della gara contro la Vastese sarà interessato a sapere il finale di Pierimonte-Matese. Domenica pomeriggio il discorso primato potrebbe prestarsi a scenari alternativi in presenza di risultati inaspettati. Staremo a vedere.